Buona sera a tutti quanti, benvenuti in questa che è la serata di cala, la serata di chiusura di questo splendido festival, del nostro diciottesimo festival. Siamo mesorelli. Abbiamo un grandissimo piacere, oltre a tutto quello che abbiamo provato, visto, apprezzato durante le scorse serate, ma un ritorno fantastico, grandissimo, voluto fortemente da noi e con grande piacere, abbiamo scoperto che avevano un grande piacere a voler tornare a Lugano. Mariano Speranza con Tango Spin. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.